Campo da basket per un giorno. Il cortile di Palazzo Valentini apre le porte ai piccoli giocatori della provincia. Per avvicinare i ragazzi immigrati e quelli meno avvienti allo sport, grazie al progetto Giovani Culture e Colori, l'integrazione fa canestro, la SS Lazio Basket, con il sostegno della provincia, apre altri quattro centri di avviamento alla palla canestro a Roma, Ladispoli, Albano e Civitavecchia. Diventano così otto le strutture dove, dice Simone Santi, presidente della Lazio Basket, i ragazzi di 27 nazionalità diverse possono socializzare, integrarsi più facilmente e praticare sport gratis. Siamo ad otto centri, più uno in Africa, 400 bambini di 27 nazionalità. Tutti questi bambini hanno sempre una percezione più alta delle regole e del rispetto degli altri. Arriviamo addirittura a un aumento del 50% e quindi questo ci dà veramente la fiducia per andare avanti per dire che il modello è replicabile. Continueremo a sostenere questo progetto, dice il presidente Nicola Zingaretti. È importante costruire dei momenti di socialità come stanno facendo la Lazio Basket affinché insieme si sia più sicuri e insieme si scopra il valore e il fatto che un bambino è innanzitutto un bambino e come bambino ha il diritto al gioco al tempo libero.